Musica Siamo con Giuseppe Santoro, consulente dell'area tecnica per Minister Mazzarri. Hai conosciuto il Minister a Napoli, sei uno degli ultimi che hanno iniziato a lavorare con lui nel percorso. Abbiamo conosciuto tutti voi che fate parte del nuovo staff dell'Inter. Un percorso professionale 360 gradi, gestione, consulenza, scouting e poi c'è l'Inter. Cosa farai in questa tua nuova esperienza? All'Inter sarò consulente dell'area tecnica, in sintesi mi occuperò un po' di tutto quello che in questi ultimi anni sono occupato anche al Napoli, forse con l'eccezione della gestione del settore giovanile che è stato il mio primo incarico nel Napoli. Qui mi occuperò dei rapporti tra l'area tecnica e la società, di fare un po' l'uomo ponte e poi di tutte quelle competenze organizzative e tecniche che pertengono all'attività della squadra. Arrivare all'Inter, come ti è sembrato? Innanzitutto il lavoro di queste due settimane perché bisogna valutare quello che è stato questo ritiro. Sì, prevalentemente l'impatto è stato questo qui del ritiro, molto bello, molto ricco di lavoro perché i ritiri con il mister sono sempre molto sudati, per ora tutto bene, ora ci confronteremo con la realtà milanese quando torneremo dalla torne negli Stati Uniti. Hai trovato strutture positive, una buona organizzazione visto che parte del tuo lavoro è questo? Sì, avevo già la mia esperienza con il Trentino e ho trovato strutture eccezionali come sempre, la solita ospitalità e disponibilità al lavoro che favorisce molto naturalmente queste due settimane molto intense di fatica. Che tipo di emozioni invece hai vissuto nell'andare a lavorare per una società come l'Inter? Ho visto una grande partecipazione della gente qui a Pinzolo, davvero mi ha stupito e niente, ora ci aspetta il lavoro di rientro, l'impatto magari con la città e con la realtà quotidiana perché il ritiro ha sempre una sua straordinarietà. Tra meno di un mese prima parte ufficiale, buon lavoro. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di... Grazie a tutti.